Visit Colimpetra è un momento particolare in cui il FAI nazionale punta per la promozione paesaggistica, culturale del nostro territorio. Siamo proprio qui oggi a presentare questo nuovo sito che è una parte dei siti complessivi del FAI e dedicato evidentemente a uno dei beni del FAI, il bene che è il FAI più a sud dell'Italia, quindi ad Agrigento, all'interno della Valle dei Tempi, il Parco dell'Alcolimpetra e il sito Visit FAI declina tutta la parte collegata al turismo. Quindi cerchiamo in tutti i modi di usare uno dei beni del FAI, in questo caso la Valle dei Tempi e in particolare il Giardino dell'Alcolimpetra come fulcro per fare sistema fondamentalmente per tutto il territorio, quindi unendo anche il territorio cercando di dare per quanto possiamo anche uno sviluppo turistico, uno maggiore sviluppo turistico al territorio e quindi il piacere anche di avere qui con noi alla presentazione anche gli operatori turistici e commerciali del territorio. Il FAI promuove una sorta di turismo non di secondo piano però legato a questa rete del patrimonio FAI. Esatto, sì, noi abbiamo tanti beni aperti regolarmente tutti i giorni in Italia, in quasi tutte le regioni italiane e cerchiamo esattamente come facciamo qui oggi alla Colimpetra di fare esattamente quello che dicevo prima cioè di cercare di animare anche dal punto di vista turistico i vari diversi territori evidentemente vendendo al visitatore un'esperienza fantastica, unica. Il FAI sta organizzando un sito turistico in cui inserisce i propri beni con uno spazio specifico molto dettagliato sulle caratteristiche dei beni ma soprattutto sui motivi di interesse del territorio in cui i beni sono inseriti. Quindi noi non parleremo solamente del giardino della Colimpetra parleremo di tutto quello che c'è di importante e interessante da vedere ad Agrigento e provincia. Già da diversi anni la Colimpetra è un motivo in più per venire ad Agrigento. Ha arricchito enormemente il sito della Valle dei Templi e ci sono diversi tipi di turismo ci sono turisti che vengono proprio appositamente per vedere la Colimpetra assaporare i frutti che crescono in questa meravigliosa valle e anche per assaporare gli odori, le fraganze. Agrigento non è solamente Valle dei Templi, Agrigento è anche la Colimpetra Agrigento sono anche i suoi parchi naturali Agrigento sono tutta una serie di meraviglie e di itinerari che sono intorno alla valle.